Un cordiale saluto ed una buona Ponte Dera Ovest-Bonsacco Rallentamenti tra Ponte Dera Est e Montopoli Per traffico intenso, code in uscita All'Astra Assigna in direzione mare Rallentamenti tra Scandici e Firenze-Scandici In direzione Firenze Chiudiamo con i treni per presenza di persone Estrane lungo la linea ferroviaria I treni percorrenti la tratta Faenza-Firenze potrebbero subire ritardi E variazioni. Muoversi Toscana È un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana e Comune di Firenze Vi auguriamo un buon viaggio Grazie a tutti